Calcio di punizione, c'è Dondino sul pallone, stiamo perdendo 1-0 qua a vasto, da un 1-0 a nostro favore, c'è uscito l'1-0 a favore loro, tutto fatto dal direttore di gara, ci ha dato un fuorigioco inesistente dopo che aveva prima convalidato il gol e dopo non l'ha dato, subito dopo sull'area nostra non ha fiscato una punizione su carica del nostro portiere, non ha fiscato la carica sul portiere e l'attaccante della vastese ha messo in porta, da un 1-0 a nostro favore a 1-0 a favore della vastese. Forza Cristian! Fuori gioco!